Episodio 10. Allora ragazzi, io mi sto chiamando di putto. Venite! Ora! Via! Sti gazzi si arrivano... Voi! Venite! Vaffanculo! Sti gazzi si attivano l'allarme! Sti grandi cavoli! Seremo che da qui mi prendono? Via! 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 Via Tocca l'ammatevo di merda Stronzi Mi ha fatto un cazzo Vabbè vabbè Ma se non ti levi Coprimi Coprimi Ma perché sei così scemi Sono ignoranti Questi non fanno un cacchio Vabbè 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 Chiudiamo le morte va Ma vaffanculo Porco schifo Ce la fai? Non ce la fa Per due gradini non ce la fa Fai i saldi Combatti Vabbè Dava Un culo seriamente Ma chi vi conosce? Che stronzo Che stronzo Un culo seriamente ma se spara un tizio di bengala gli fa qualcosa aspetta aspetta lo sapevo ma scusa ma io mi chiedo da dove cazzo vengono dove si vengono ma che cazzo e la madonna dai guarda quanto bello di dio davvero ma io con le grazie le posso far fuori ma credo di si dai si pure si no no ma ci muovi un'altra volta ragazzi sono morto qui sei volte sei volte sono morto vi giuro eh perché io ho tagliato ma il dur io resto qui da un'ora sei volte sono morto sei volte mortacci vostra ma che vuoi vengono no ma dove cazzo vengono da dove 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 vengono sti tizi di merda dove cazzo dobbiamo venire sti tizi vaffanculo meno distratto no vabbè c'è un cazzo ma se io vengono il carro armato tipo rilancio questo mi sta godendo il giorno? si è finito? è fermato eh no mi mostro quello va un culo vai a cagare ma sai io che faccio? me ne frego e faccio così tac così e via ma affanculo ma da dove cazzo vengono? dopo tre ore ho fatto ciao stronzo ora dobbiamo conquistare un'altra volta scusa ma alla fine ma chi ha distrutto il carro armato? perché c'era un carro armato tipo da distruggere no? alla fine chi l'ha distrutto? oh godo guarda quanto godo guarda quanto godo cazzo è? perché mi si baga? mi si baga tutto mi guardi? sei incoglionita cosa cazzo sei? boh ma io io ragazzi boh questo gioco è buggatissimo è la mia xbox che fa così perché è impossibile cioè non ho mai fatto in vita mia questa cosa così non è mai successo in vita mia ah ecco dove vengo questi stronti da lì mi faccio danno? boh non so se mi faccio danno o cosa boh ok ok dobbiamo stronzo di merda ma cosa cazzo vuoi? vattene a fanculo dai va c'è un attimo l'allerno stronzo di merda mi serve che porca troia che porca troia poi così continuano ad arrivare noi li uccidiamo e quelli arrivano vattene a fanculo ma io me ne vado qui dentro e me ne sto qui dentro dammi quell'arma dammi quella cazzo d'arma meglio molto meglio vaffanculo spiegato solo delle munizioni e basta perché non aveva un cazzo ma ci vuole tre ore proprio raga non potevi capire quante cazzo sono morte primo sei ma qui dodici volte le morì no ragazzi sto impazzando io sto da 30 mila ore sto qui da 30 mila ore ma che cosa fate che cazzo facete se tanto ancora non mi ho vinto abbiamo fatto un cazzo qui poi perché c'è la gente buggata che sta con di fermo con di fermo ma che cazzo è guarda quanti cazzo sono ma vaffanculo eccoli allora io faccio sempre quel giro vado lì su dove faccio da 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 e si conquista perché tanto faccio sempre tutto io gli altri ma c'erano uno ed un muoio e basta così mi continuo odio c'è il covid c'è una cosa che non è reale che tipo queste lanci le granate e perfettamente mi arriva a me poi io io le lancio io niente ma perché io ragazzi non capisco la logica il cecchino un colpo ci deve essere uno non 30 milioni dove cazzo stavo porca troia che soddisfazione spacco tutto cazzo se non soddisfazione non spacco si libra la mente proprio dammi la cazzo di sua arma vaffanculo che questa è comoda si prende le munizioni mi servono in caso se devo fare spedere qualcos'altro finito 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 si si ascolta ma il rosso non è nemico sto gioco sto gioco è bagatissimo di brutto raga ma fatelo aggiustare ma fatelo aggiustare sto gioco ancora che cazzo ma quale cazzo è la nostra tappa è quello lì ma quando cazzo ci arriviamo la mia madre che ti è uscita da due ore questo è bagato come se vaffanculo piombo per tutti no vaffanculo ma perché non ti spieghi di se ti resta l'arma di merda io le faccio giro ah certo che non posso ma grazie al cazzo che non posso vaffanculo vediamo se funzionano ehi sono qui funzionano ste merda o cosa no eh però dai sta migliorando gli altri cazzo bravo la conosco è buona però questa la conosco è molto buona solo che tipo consumo un sacco di proiettili questo è il problema va un culo prota si capisce si capisce la merda non si capisce niente si vaffanculo ma che cazzo mi sta sparando è un casino raga dai aspetta che ragazzi le faccio altre oddio questo quello è morto malissimo ok pure l'altra è andata ma che cazzo sei che cazzo sei come come cazzo non l'ho visto sei vaffanculo ma io muoio 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 qui muoio 30 volte finalmente è un bastardo tronzo di merda e neanche l'ho colpito ma vaffanculo se c'è davanti a me che cazzo morite stronze vaffanculo capito vaffanculo culo l'altro è andato che cazzo si è sparato la schiena ora basta stronzo se io ragazzi se io qui morivo io giuro che io ma io spaccavo l'icebox ma di brutto non potevate immaginare come la spaccava ragazzi ma che cazzo come è morto malissimo ragazzi io sentivo già l'ho così finito in tutto ci manca questo che credo che sia già finito quasi finito poi c'è il tizio di merda io ragazzi odio questo qui gli ragazzi odio ora mi dico se va panculo due strozzo bastardo figlio di puttana si vabbè che cazzo che credi essere don't worry ah potresti cagare addosso eh no e no strozzo di puttana si cerchiamo ragazzi tutti ok questo ce l'abbiamo ce l'abbiamo tutta tra i due razzi ma vabbè se l'abbiamo fatta no finalmente ce l'abbiamo fatta tranquillità immensa proprio ma perché aprii sempre io le porte ma tutto ma tutto pure pure su quattro porca merda si ma è notte sta diventando buio oh no no eh si si sta diventando buio non è notte ma sta diventando buio eccomi strozzi oh porca merda c'è morto quello primo appunto io al centro non ci vogliamo stare se sto in guerra merda stiamo perdendo sopra no stiamo perdendo uomini come cazzo è morto quello porca merda no ma se sono sparato credo sto malissimo sto morendo di brutto porca merda fai qualcosa di peace non so se che cazzo vuoi fare oh porca vai 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 forza così forza così forza così forza così vai grande scendi ma che cazzo fa scendi cosa ma il coglione ma perché non è scappato scusami ma come ormai morto ormai morto ormai morto ilissa forse vivo forse vivo no 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 schiattato schiattato niente raga schiattato cazzo cazzo no ma perché ma perché porca merda ma che cazzo tocca andavanti raga niente non posso fare fratello madonna balga non posso fare niente non posso fare niente no come niente fbi open up a qui che bello che schifo di caschi pro che hanno non mi piacciono semplicemente quello dei tedeschi molto meglio che cazzo fanno quelli forse prego ciao bro c'è tutto qui ragazzi sono sopravvissuti questi perché sto dicendo oh perché una roba di famiglia 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 di famiglia